E' decrescente a seconda della quantità di lavoratrici, comincia con filatrice, serva, tessitrice, calcettara, sarta, lavandara, cordellara, cucitrice, venditrice di merce varia, incannatrice, suppongo che lavori a etela e torcitoide, incannatrice, prepara le bobine, la trecola invece vende prodotti elementari nella strada, così ho trovato nella strada, verdure, la cuffiara, la maestra di scuola, bottegara, bottonara, la ballerina e cantante, caffettiera, al banco in piazza, fruttarola, lavori diversi, ricamatrice, imbianchitrice, è la tela, è la tela, ortolana, merciaia e altri.